Rai, non so che dire, insomma, sono lusingato, ma... Oh, andiamo, è bello, vero? Vero? Jenny è una ragazza fortunata. Come le farai la domanda? Su una mongolfiera? Una scritta in cielo? Su un mega schermo? Pensavo di chiederglielo, basta. Non va bene così. Devi fare una dichiarazione, una cosa in grande. Una città in elicone. Molte ragazze preferiscono qualcosa di più. Quindi lui deve essere noioso e dire... Vuoi sposarmi? Andere...